Postare l'attenzione sulla figura femminile, promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la riflessione sulle tematiche di genere, mostrare l'eccellenza dell'essere donna e dimostrare come la donna non è protagonista solo l'8 marzo ma tutti i giorni. Questo è il filo conduttore dell'annuale edizione di Crea Donna 2016, manifestazione organizzata dalla Proloco di Prato La Peligna, dei volontari del servizio civile con la collaborazione della Horizon Service di Sulmona, della piattaforma delle idee di Prato La Peligna e del Rotary Club e di Sulmona. Quest'anno si è pensato di organizzare una serie di eventi che mettono in risalto la figura della donna a 360 gradi in tutti i suoi settori, si regge in una nota diffusa dagli organizzatori perché le donne sono portatrici di idee, di scienza, di ricette e di futuro e pertanto si ha l'esigenza di mettere in luce l'eccellenza e il contributo peculiare delle donne in ogni ambito. Nella giornata di sabato 5 marzo 2016 all'ora 17 presso Palazzo Colella otto donne mostreranno la loro eccellenza nei settori della moda, economia, salute e volontariato, cultura, teatro, imprenditoria, sport e si racconteranno davanti alla madrina di casa, Imperia Liberatore. Metteranno in luce difficoltà e successi in una sorta di open day tra mondo del lavoro e mondo della cultura. A ricevere riconoscimenti saranno Maria Assunta Rossi, economia, Rossella D'Angelo, salute e volontariato, Ida Basile, teatro, Cinzia Cinotti, moda, Barbara Trafficante, marketing, Fulvia Pace, sport, velia di bacco, enologia, Annalisa Di Ruscio e Caterina Fantauzzi, cultura. Domenica 6 marzo 2016 toccherà la professoressa Katia Agata Spera a presentare il suo romanzo Riprenditi la vita. A coronare la settimana ci sarà Crea Donna 2016, una manifestazione che si svolge ogni anno in occasione della festa della donna a Palazzo Colella. Dal 6 al 13 marzo verranno esposti prodotti di pittura, decupaggi, bigiotteria, scultura, cucito, ricamo, disegno e altro ancora. L'inaugurazione si terrà domenica 6 marzo.